Ecco ci prepariamo a trascorrere un po' di tempo con il cucciolo appena arrivato sostanzialmente non devo fare nulla, mi prendo una bella tazza di caffè abbiamo preso il cucciolo, lui farà delle cose, io lo ignoro naturalmente perché sennò non mi darà continuamente conto, io voglio che impari a stare tranquillo qui se mi salta di sopra lo allontano leggermente qui 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 qui, se si allontana faccio un versetto e lo premio metto via il premio perché voglio di nuovo ignorare il cane, voglio che stia qui tranquillo senza allontanarsi troppo ma senza salirmi di sopra e riprendo la mia tazza come vedete ho una comunicazione chiusa, se sta qui o mi sale di sopra intervengo soltanto se si allontana troppo da me grazie a tutti